Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa esclusiva Fiat 595 Abarth C, quindi cabrio, modello competizione, kit potenziamento 160 cavalli iscritto libretto, vettura con soli 58.000 km originali percorsi, cinghia di distribuzione già sostituita in funzione dell'età del veicolo. L'auto è stata immatricolata nel gennaio 2013, monta ruote in lega 17 pollici spazzolate diamantate bicolore, una bellissima vernice grigio campo volo con capottina elettrica di colore grigio, marmitta record Monza, sensori di parcheggio posteriori, fari xeno, vettura in tonsa, monta sedili sabbe taguscio sportivi, la pelle grigio ghiaccio, volante sportivo multifunzione appiattito, ecco i 58.000 km percorsi, radio cd mp3, funzione tasto sport, clima automatico, naturalmente cambio meccanico, vettura mai sinistrata, disponibile in pronta consegna, vi aspetto gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla, grazie!